GTR 35 più rara del mondo, check Trattore ultra mega galattico, check La nuova PS5 portatile, check Le mie forbici per tagliare i succhioni, check Nissan GTR Liberty Wolf, check Il mio caro agricolo pieno di legna, check La mia nuova Lamborghini STO, check Oh, Haruto, cazzo, check E tutto il tuo rottino cosa bella, madonna mai